Allora, mi salva a fare una seconda, un po' di fotonica. Non so, non mi costruisce una besta da Carla. No, non è un po' di se la gioca. Ci stendono le gatti a Ibrea. Ma vede, il proprio ce la di E-Proset Centaari basso. Ma ma, Martina, questa mia amica, si è la Silvia. Avevamo tutti i cuore un po' di, però non sono la mano. Si è fatto disegno. Anche lei è una patissima. E' perché ne va adatta proprio il mio mangi, che è un'altra di questa. Per me, per me, le hai chiedere, che sia... Sì, sì, sentite le? E' una responsabilità molto grande, tra l'altro, perché è permanente, quindi adesso lo fa, ma tu avevi detto che questi che erano i rumori di quando ti attaccavi? Si, quando attacca o le piso o altre cose. Si, ma non puoi evicolare tanto ci sono solo adesso perché va tanto con delle foto, delle cose che fai, ma proprio che... LUCARIO Ma non ho visto prima cosa, ma non ho visto ancora, ma non ho visto che senza casa. E' un paese di parlare, però fuori da noi, però... ...o che cosa succede? Orbi Carla Queste sono i tornelli 10 La riviera Questo è il 4 5 11 11 11 6 10 di gas Poco d'essere 6 Una precipitazione noturna che bianca e carne Brina 7 12 12 12 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 15 15 La sposa di Eliana Nonno Pau 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 Penela Penela Penelao Pau Quindi 11 e 12 Ilia 12 12 12 12 12 12 12 Poteva essere un toro Sarebbe qua? O qua Monti ne ha preso a solo Due mattine Non me ne ricordo Non lo so Un fogliere vacuto Un ancora Ricollenza secolare Una ricollenza secolare Tradizionale Financial Times Ho messo quello qua Grazie Ex magazzino Ex magazzino di metà presidenza Loft La concorrenza media si trae Non qui Lì L'occhio del francese Non so presidenza E No No Motore nervoso Tic Per essere qui E qua Nasce in testa Idea No Non viaggia Un centenario Sì Bravo No No Che dici? No Andi Do Chiric Grazie a tutti. 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 No, no. No, solo per sapere. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.